Prosegue la rassegna Castello di Parole a Rio Maggiore. Il prossimo appuntamento avrà luogo venerdì, il 16 settembre alle 17.30 proprio al Castello. Ospiti due autori, Sergio Ramazzotti, Tiziana Cecchinelli e l'Associazione I Spinosi. Sì, abbiamo voluto organizzare questo nuovo evento, sempre di Castello di Parole, per continuare con la nostra rassegna. Mi ricordo un appuntamento al mese dove invitiamo scrittori sia nazionali sia locali. Anche questa volta abbiamo voluto unire due scrittori, Sergio Ramazzotti, che è uno scrittore conosciuto a livello nazionale, e Tiziana Cecchinelli, che parlerà della sua storia anche personale, che ha voluto raccontare in questo libro, che è molto interessante. E quindi noi vogliamo continuare, insomma, e portare avanti questa rassegna con il supporto e la collaborazione di Ornella D'Alessio per far sì che il Comune di Rio Maggiore, soprattutto il Castello, diventi sempre di più un punto di riferimento culturale. Ecco, l'obiettivo di questa rassegna, che ormai va avanti davvero da diversi, da tanti mesi, è proprio quello di portare anche all'attenzione dei cittadini, ma in estate anche dei turisti, perché no, temi importanti, anche con la volontà proprio di sensibilizzare le persone su determinate tematiche. Sì, vogliamo ritornare ad incontrarci, ad incontrarci, a discutere, a dibattere. Credo che questo sia l'obiettivo principale della nostra rassegna. Il Covid ci aveva un po' allontanato e quindi dobbiamo un po' ritrovare gli spazi, anche i tempi, anche dello stare assieme. E questo ci dà l'occasione per discutere, per vederci e quindi noi vorremmo continuare con questa rassegna anche per il prossimo anno, cercando sempre autori stimolanti, insomma, che possano portare a noi anche argomenti interessanti. Io vi aspetto venerdì, i temi sono veramente molto importanti e quindi spero ci siano tante persone per stare ancora insieme, come abbiamo fatto nei mesi scorsi.